La ex Irisbus vince il derby con i Vecobus e si aggiudica la commessa dei 200 autobus della regione Campania. Questa buona notizia, dichiara il segretario della FISBIC Giuseppe Zaolino, rilancia definitivamente l'avvertenza e produrrà un'accelerazione sui tempi della ristrutturazione e sui rientri dei 300 lavoratori nello stabilimento di Valle Ufita. I rischi sono alle spalle che adesso si apre una fase di rilancio vero, concreto, perché c'è il lavoro, c'è il lavoro per un intero anno di produzione e questo fa anche giustizia sui dubbi, sulle perplessità. Io credo che la regione Campania abbia dimostrato di crederci sulla possibilità che Valle Ufita possa essere il polo nazionale insieme a Bologna per la costruzione degli autobus italiani. Ha perso chi ha chiuso la fabbrica nel 2011 e ha vinto l'industriale che ha creduto nel progetto. Altra tappa importante sarà quella di domani sera a Roma con Del Rosso e Del Governo in una riunione ristretta al Mise dove si parlerà anche della nuova composizione societaria. Finmeccanica a scadenza in questo periodo uscirà dalla società e sarà sostituita da un altro intervento pubblico, una finanziaria che possa dare liquidità e contribuire al rilancio del Made in Italy.